Decenni di promesse disattese, di interesse mostrato solo con le parole, mentre concretamente non si è fatto nulla. Quel muro di cinta esiste e resiste e la strada non è stata ancora allargata. I residenti del quartiere Pozzopiano, Attrani e i componenti dell'omonimo comitato, supportati da alcune associazioni, ieri mattina hanno manifestato. Un setting di protesta pacifico per chiedere al sindaco Amedeo Bottaro di mostrare interesse nei confronti dei residenti e dei commercianti del quartiere. Chiediamo che per pubblica utilità la strada venga allargata, che venga dato al quartiere e alla città quel volto degno di un paese civile, ha spiegato Rosanna Nenna, presidente del comitato di quartiere. Questo quartiere è bloccato da questa strettoia. Purtroppo sono decenni, tante parole, tante promesse, ma niente fatti concreti ancora. Oggi siamo scesi qua per una manifestazione pacifica. Vogliamo far sentire la nostra voce, a voce alta, perché vogliamo rendere questa città e questo quartiere più vivibile. Chiediamo soprattutto una cessione del diritto per pubblica utilità e magari anche un esplopio. L'importante è che ci sia immediatamente una risoluzione, perché siamo veramente stanchi. Andrebbe trovato un accordo con il proprietario del suolo, ha spiegato Fiore Resta, vicepresidente del comitato, con l'obiettivo di allargare la strada e creare un marciapiede pedonale sicuro e non dei paletti in plastica. Il problema principale è perché qui c'è un discorso di edificatorietà di quest'area adiacente, quindi si potrebbe fare un esplopio per pubblica utilità e far cedere dai proprietari quest'area di terreno al comune, in modo tale da poter fare questo allargamento, che ridurrebbe oltre non solo i problemi idrogeologici, ma anche creerebbe la fruibilità della città, perché questa comunque è una porta principale della città stessa. Per dire basta al muro della vergogna, i ragazzi di una scuola di danza si sono esibiti in un flash mob e per l'occasione sono state raccolte anche nuove iscrizioni di cittadini e residenti, che condividono le idee del comitato di quartiere Pozzopiano.